Ad una settimana dalla presentazione delle candidature per la corsa elettorale del 3-4 ottobre 2021 a Castellabate, nasce Election Day Castellabate, un gruppo pubblico nel quale poter seguire tutti gli aggiornamenti riguardanti le prossime elezioni amministrative nel comune costiero. Cilento Channel realizzerà anche un programma televisivo in diretta che informerà i cittadini sulla competizione elettorale dalla presentazione delle liste fino allo spoglio del 4 ottobre. Ad oggi nel comune un solo consigliere comunale, Domenico Di Luccia, ha ufficializzato la sua candidatura alla carica di sindaco, portando con sé in lista i consiglieri Alessandro Lo Schiavo, Cristina Cardullo e Caterina Di Biasi. Mancano ancora sei giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature e il consigliere Marco Rizzo ha postato sulla sua pagina Facebook un articolo giornalistico che lo vede concorrere per la carica di sindaco appoggiato da un altro consigliere comunale, Luigi Maurano. Dall'amministrazione comunale uscente è ancora silenzio e incertezza dopo le dichiarazioni prima dell'assessore costabile Nicoletti che ha scritto in una nota di non manifestare interesse a candidarsi a sindaco e quelle successive del sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, che ha espresso contrarietà a qualsiasi candidatura possibile, continuerò a fare politica all'interno e per il partito in cui milito da sempre e del quale sono profondamente orgogliosa, ha scritto sul suo profilo Facebook. La presentazione delle candidature alla carica di sindaco per le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8 di venerdì 3 settembre fino alle ore 12 di sabato 4 settembre 2021. Essendo Castellabate un comune con abitanti inferiori a 10.000, il numero minimo di candidati per la lista è di 9 componenti mentre il massimo è di 12.